E' partita con un video in cui campeggiano le favolose immagini delle Tegnu e la conferenza promossa dalla Biodesign Foundation, un'organizzazione no profit svizzera tenutasi questa mattina a Palazzo Grassi a Chioggia. Nel corso del 2022, grazie a 60 armatori chioggiotti, si è riusciti a togliere dal mare 100.000 kg di rete esauste. Grande l'entusiasmo di uno dei pescatori coinvolti, uno dei pionieri che hanno aderito immediatamente all'iniziativa, Elio Dall'Acqua, che ha riconosciuto l'importanza del lavoro fin qui svolto e della mole del lavoro ancora da svolgere, orgoglioso di agire per le generazioni future. Un'azienda, la Biodesign Foundation, che vuole raccogliere le sfide e cercare soluzioni. La sfida è stata lanciata da Roberto Penzo, Tanfa, il quale ha posto come quesito se sarebbero mai riusciti a trovare un rimedio per il problema delle reti dismesse. Problema analizzato e parzialmente risolto. La Biodesign si fa carico di raccogliere le reti raccolte dai pescatori, valorizzandone una parte e quantificando al pescatore un quid. Da Chioggia parte il progetto, che poi passerà da marineria a marineria per tutta l'Italia. Direttore per l'Italia e il Mediterraneo è Emanuele Mazzaro, che per primo ebbe modo di conoscere la ditta quando ricopriva la carica di direttore del mercato ittico, riponendo subito, nelle sue intenzioni, fiducia. Roberto Guerini, presidente della Biodesign, si è detto fiero che il progetto sia partito proprio dalla nostra città, proprio per l'importanza che qua il mare riveste e per il numero delle imbarcazioni che potrebbero essere coinvolte. Si tratta di un inizio di un progetto grazie al quale i pescatori non ne usciranno demonizzati, ma ancora una volta custodi del mare. Fa un appello, Elio Dall'Acqua, a tutti i pescatori d'Italia che potrebbero essere coinvolti nel progetto di unirsi allo stesso e di non gettare più le reti in mare. Intervenuto da parte è Pietro Mescalchin, presidente dell'associazione Lettenue, che ha ricordato la necessità di un posto per raccogliere i rifiuti al mare il più vicino possibile e dove le barche possono approdare, ricordando un vecchio progetto in tal senso che vede la location in Punta Poli. Ha ricordato inoltre l'ingombrante presenza nella zona SIC di retini per i mitili, che nell'area delle Lettenue vengono buttati senza ritegno, in modo che non giungano poi a terra, trattenuti qua dalle correnti. Recuperare le reti non sarà facile e non sarà economico. Molte reti sono diventate subostrato in cui proliferano fauna e flora marine, ma tante hanno un'anima in ferro che si trasforma in ruggine e che entra nella catena alimentare. Per le reti che non potranno essere riconvertite, sono allo studio progetti per valorizzarle e recuperare i vari materiali che le compongono. I 100.000 kg di reti raccolte sono solo una piccola parte di ciò che si nasconde nel mare. Il lavoro sarà lungo, ma il primo passo oggi è stato raccontato. Grazie.